Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, seconda volta per fare questo video, sto morto, sto buono, che prova ha rovinato tutto, viene qua, viene qua, viene qua, viene qua, viene qua, adesso tu stai fuori finché io non ho finito, perché prima la telecamera è stata due minuti per te, io non mi sono accorto perché quella saliva sul tavolino, comunque Black Ops 2 faccio vedere la classe che uso, questa qua, MP7 perché mi piace come è fatta, con impugnatura, che aumenta la posizione quando miri, cliccato aumentato, che aumenta i colpi, grazie alla, e estrazionerà per la prima e più veloci, le abilità, inflessive che faranno dire prima una serie di punti, fantasma che non mi fa correre sui radar, sciacallo che mi fa prendere le munizioni da quelli che uccido, oltre il limite per correre di più perché è divertente, poi l'abilità per avere più abilità, ovvero terzo accessorio per l'aria principale e una seconda abilità primaria, giustamente, e questa è la mia classe, mappa i jacket perché è l'unica che mi piace, proprio bellina, la vedi, e prima stavo giocando assolutamente male, però, ho detto buongiorno, ho detto buongiorno, ho detto buongiorno, buon pomeriggio, sì, ah, e poi questo saluto ho visto che sta prendendo piede, cioè non così uguale perché sarebbe plagio, però sta prendendo piede, allora, adesso riempi tranquillo, sperando di non fare schifo come prima, perché non riesci a fare più di quattro uccisioni di fila, io solito facevo le pengeo stragi, e dai, se lo posso fare, sì, tizio, tranquillo, dunque, 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 dobbiamo parlare, io prima parlavo di, del fatto, che mi seria, dovete crepare, del fatto che passo le giornate ad attendere la ragazza che gli piace, e perché non viene? Perché ha un fisico gracilissimo e sta sempre male, sì, è una cosa tenera a modo suo, eh, Giornato, si tro моita, si trova, sì, è una cosa, ceschino di mal, su riceve, invece è una cosa, ceschino di mal, su riceve, vendicami, bravo, Sempre questi col pompo, cecchino di merda, cioè è tenero che sia sempre male, che la fai la cilina tutta lì, bonabo, allora, chi ti ha detto di nasconderti? Oh, si, colpo fulminante, se non becco nessuno mi cazzo, attenzione, vai in quel posto, drone che si suicida, no, così impari, bene, dunque poi sappiate tutti di che ragazza parlo, quindi non diciamo nulla, tanto non riusciva mai a vedere questo video perché è una connessione scandalosa, quindi, oi! E mi avete un po' stancato, c'era quello con lo scudo, no, no, ah giustamente lui si suicida, perché c'è il drone stupido? Vabbè, voi invece che fate di bello, cerchetele a noi, chi è quel bastardo con il lanciarazzi che mi distruggono più tutte le volte? Ah, doppia così, semplice, ragazzi non siete in coppe, tutti contro tutti, poi ragazzi sto giocando col tribote, eh, 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 eh nella vita. È stato bello averlo che abbiamo fatto zero uccisioni. Di solito ne fa due o tre. Bastardo! Guardalo dov'era! Siete droni ma siete dei pezzi di... Animale! Animale! Non adesso che ricarico! Tanto per cambiare... Ragazzi tutti contro tutti! Non dovete fare alleanze! C'è... No non è possibile! Non ti suicidare! Bravo! Bene! In due non ne ha beccato nessuno! Era mio! Oh! Cioè giocare contro i botte è divertente! Poi sto facendo schifo perché sto parlando con voi! C'è degli animali che mi fanno giocare con me! No non lo chiamano lui! Non lo chiamano! Chiamalo qua! Dalò! Guardalo! Non ti suicidare fratello mio! Pian piano i droni! Tanto per cambiare eh! Sì! Poi facciamo la nostra stragetta! guardalo! E' sempre emozionante fare queste cose! Che non fa mai male! direi che adesso! Dai almeno due! Almeno due! Un! Due! Sì! Devo arrivare a 75! Non ci arriverò mai in 10 minuti! Guardalo! Apresi il rigone! Uccidilo! No! Non ci arriverò mai in 10 minuti! Ah! Che bellezza! Mi soddisfazione! Non è giusto tra ragazzi mi piacciono provvedermi i miei video! Non mi hai mai sentito parlare! racista! La sua connessione! Ma giustamente! Cioè sempre quando chiamo qualcosa! Allora arrivano! Tranquilli! Quanto sta? 53-8! Sto giocando male! Giustamente perché parlo con voi! Chi è quell'animale? Chi è quell'animale? In ogni partita da uno con Lanciarazzi! Non è possibile! Dai! Sei un porco! Lo dovrò bandire il Lanciarazzi! Perché posso? Chi è che tinazzo? Non ti suscitare! Si è suicidato! Colpo fulminante! Eh! Mi anche un po' cagato la ciosva quel tipo eh! Dai! Fammi fuori! 4! Nuovo record di indiretta! E' una partita bellina questa e devo dire! Speramente non mi hanno ucciso! Ciao tipo! Lui si suicida! Dove sei passato che ti stavo sparando? Questo 68! Beh direi che il video è quasi giunto al termine! Ah! Poi l'ho detto che vorrei portare zombie! No! Su questo video no! Mi pare tripla semplice! Che bella! Vai! 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 Vai fratello mio! Non adesso! Non adesso! Probabilmente farò video su zombie! Che culo! Zombie come! Ah si ho il nome Scrasso! Non chiedetemi perché! Zombie come! Io pensavo di fare tipo... Guardate come sparo bene! Pensavo... C'è da solo arrivo al round 5! Quindi... 75 no! Non bene! Quindi io pensavo di fare una cosa tipo... In gruppo! Cioè ci proverò! Non è detto che partecipino! E' molto improbabile che partecipino! Però io ci provo! E... Per poter fare partita anche con qualcun altro! Qua semplice con 3 bot! In più era di forno anche se era abbastanza concentrato! Avevo primo fatto schifo! Vedete che ho 4 eccessioni massimo! Qua! Le peggio stragi! E... Niente! Quello che dovevo dire! L'ho detto! Mi stanno plagiat... Il ban del saluto! Si! Sono a poso! Sono tranquillo! La mia gatta può rientrare! Vieni micia! Vai! E... Niente! Arrivederci!